Siamo molto indietro ma per una ragione culturale, noi pensiamo che la scuola sia un investimento sociale invece di capire che la scuola è il fattore di mobilità verticale da sempre, il più importante è il fattore con cui uno crea una persona che è capace di lavorare di fronte a un mondo che cambia. Sono considerazioni amare quelle espresse da Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussiderietà che alla mezzia terme presso l'Istituto Ipsa Reinaudi ha partecipato assieme a molti altri protagonisti al seminario di formazione didattica, character, skill, scuola e lavoro, ripensare i processi di apprendimento e le collaborazioni scuola-territorio. Un tema decisivo e mai sufficientemente approfondito e Vittadini non lascia spazio ad interpretazioni mettendo al centro anche il rapporto tra formazione e mondo del lavoro. Le scuole professionali non possono accreditarsi, è una cosa assolutamente scandalosa e secondo che non in tutte le regioni la formazione è qualità. Nel momento in cui in certe regioni come Lombardia c'è la dote e qui io posso scegliere gli enti di formazione che funzionano va, ma se gli enti di formazione prendono i soldi per uno storico e magari non stanno capaci di formare semplicemente per rendita politica è chiaro che la formazione diventa non una risorsa ma un problema. L'iniziativa formativa organizzata dalla Scuola per il Bene Comune e il Sud già e non ancora assieme ad altri partner ha avuto il patrocinio e la collaborazione di ERSAF, l'ente di ricerca scientifica ed alta formazione. Una richiesta al professor Vittarini di creare un progetto di ricerca scientifico mirato appunto al coordinamento e all'orientamento dei ragazzi in età scolare, quindi dalle scuole medie fino alle scuole superiori, in modo tale da combattere la povertà educativa e creare un sistema importante che può essere replicato su tutto il territorio nazionale. Di una scuola che deve mutare il proprio profilo ha invece parlato la vicepresidente della Giunta, Giussi Princi, che assieme al presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, ha garantito la condivisione e la partecipazione della Regione Calabria. È una scuola che rimane obsoleta nei contenuti, è una scuola che dovrebbe rivedere proprio quello che è dell'approccio programmatico, anche perché abbiamo a che fare con ragazzi che appartengono ad una generazione diversa rispetto alla classe docente, sono nativi digitali.